Si è tenuta al comune di Iesi la conferenza stampa di presentazione dell'evento Sicurezza Infinita. Il 24 maggio al Teatro Pergolesi, in occasione della giornata mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro, Play Sicurezza ha organizzato uno spettacolo teatrale non convenzionale che vuole offrire con comicità e sarcasmo una galleria di spunti di riflessione su salute e sicurezza. Credo che la sfida più grande sia culturale. Se riusciamo in maniera aversiva a far capire ai nostri collaboratori delle nostre aziende che la sicurezza è un loro bene, fondamentalmente un loro valore e quindi riusciamo a vincere la sfida culturale, di far capire che non è che il datore di lavoro deve introdurre delle regole per creare degli ambienti salutari, credo che allora lì veramente possiamo aumentare la sicurezza e ridurre i numeri che sono comunque drammatici perché anche un solo morto all'anno, anche se ne fosse uno solo, comunque sarebbe da evitare. Uscire dalle aule, andare in teatro, quanto è importante lo strumento dello spettacolo? Ho visto proprio la differenza fra il corso di otto ore obbligatorio, dove il collaboratore, anche da noi in azienda, viene visto come, parliamoci chiaro e tondo, va bene, perdo otto ore, poi devo recuperare quelle otto ore perché ho il mio carico lavorativo, la differenza da un nostro associato settimana scorsa, dove è stato fatto invece da Alessandro un evento ludico, perché è stata una giornata conviviale, che però i collaboratori vivono in maniera serena, ne comprendono poi il valore aggiunto, comprendono perché l'imprenditore lo sta facendo, quindi utilizzare delle vie diverse sicuramente ha una chance in più di far arrivare il messaggio, perché altrimenti i numeri parlano chiaro, se le morti sul lavoro rimangono costanti, significa che i metodi finora utilizzati non vanno bene, se si continuano ad applicare gli stessi metodi si dice che si abbiano gli stessi risultati, quindi sicuramente cambiare metodologia e utilizzare questa metodologia più leggera ha delle chance di riuscita. Un tema importante è quello della sicurezza sul lavoro, come mai Confindustria ha scelto di dare il patrocinio a questo evento Sicurezza Infinita? L'abbiamo scelto perché è un evento che tratta il tema in maniera desueta, quindi l'apparato normativo italiano in termini di sicurezza è uno tra i più evoluti al mondo e nonostante questo abbiamo un indice sugli infortuni che non migliora, quindi bisogna fare qualcosa di diverso, bisogna fare moral suasion, questo mi sembra un evento che vada in quella direzione, mi sembrava giusto come Confindustria dare la nostra adesione. La sicurezza oggi nell'ambiente di lavoro è un fattore fondamentale, molto più di tante altre risorse che tendiamo normalmente a tenere in maggior considerazione. Un ambiente di lavoro sano e soprattutto sicuro crea le condizioni per il lavoratore per lavorare meglio, con maggior serenità e per l'impresa per avere un impatto sociale migliore nella comunità nella quale comunque è immersa e nella quale lavora. Il 24 maggio al Teatro Pergolesi di Iesi l'evento Sicurezza Infinita, si esce dalle aule e si vende a teatro per parlare di sicurezza sul lavoro? Sì, è un evento specifico per ottenere il risultato e ridurre gli infortuni nei luoghi di lavoro, le morti nei luoghi di lavoro, farlo per riuscire bisogna assolutamente innovare il modo con cui si comunicano questi temi, lo facciamo sia con l'evento gratuito nell'ambito del progetto Italo Sicurezza, sia tramite la nostra formazione innovativa che si chiama Play Sicurezza. Quindi insieme, investendo tempo e soldi, mandiamo un messaggio molto forte alle istituzioni, ma soprattutto agli operatori e agli operai che lavorano tutti i giorni all'interno delle aziende, che sono le persone che poi devono per primi essere aiutate a cambiare la loro idea di sicurezza, perché quando ne acquisiscono il valore inevitabilmente cambiano anche i loro comportamenti. Il titolo spettacolo è un po' una provocazione, coglie anche il fatto che sono 200 anni della nascita della poesia all'infinito di Leopardi e quindi mettendo insieme queste due cose abbiamo composto Sicurezza infinita, anche per il valore di portarla ai massimi livelli nella nostra regione, ma con sicurezza in tutta Italia. Un'innovazione nell'innovazione, perché parliamo di uno spettacolo non convenzionale, in che senso, cosa devono aspettarsi le persone che parteciperanno? Beh, innanzitutto devono venire a teatro per scoprirlo, quello che non si aspettano è che in una seconda parte teatrale ci sarà il coinvolgimento anche della platea con delle domande, con degli spunti e quindi non certo una partecipazione passiva ma al contrario un qualcosa di coinvolgente, di emozionante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.